Buonasera, eccoci al nuovo appuntamento quotidiano con la meditazione e lo studio della pratica del Dharma. Questa sera faremo una meditazione su Shunata, sul suono e sull'acuità. Sentiamo che i nostri pensieri sono spesso impellentici, creano del disturbo e noi cercheremo in modo tale di renderli meno pesanti, più leggeri, più assimilati in qualcosa di fluido che possa scorrere nella nostra vita. Quindi faremo un esercizio sul creare una situazione pacificante dei nostri pensieri, aiutandoci anche con il suono, se abbiamo anche un sottofondo sonoro proprio perché aiuta anche al rilassamento. Abbiamo già parlato anche di Shunata, del suono che è in relazione anche come paragone a quello che sono gli fenomeni che sono impermanenti. il suono dà proprio l'impressione, l'idea dell'intangibilità, dell'impermanenza perché si sente ma nello stesso tempo non c'è, è impalpabile, è inafferrabile, però esiste. Stessa cosa anche la nostra mente esiste ma non si può prendere, non si può afferrare come un oggetto solido e quindi c'è questo paragone di esistenza di un fenomeno che esiste pur constatandolo che c'è, non si può afferrare. Così anche la nostra mente. Però nello stesso tempo la nostra mente ha una consistenza, ci condiziona la vita, noi facciamo tutto tramite la mente. Prima si pensano le cose, i progetti, si fanno tutta la nostra organizzazione sia fisica, sia proprio della salute, come pensieri che escono dalla nostra mente, sia proprio anche quello che sono le nostre azioni, passano comunque dalla mente. Quindi l'importante è proprio averne una consapevolezza precisa di quello che succede dentro la nostra mente e incominciare a lavorarci in modo tale che diventi sempre più amica e prendendo sempre più consapevolezza sulla realtà dei fenomeni e man mano il nostro attaccamento, i nostri veleni mentali ci abbandoneranno lasciando posto alla saggezza e alla felicità interiore. Iniziamo già subito con il nostro esercizio, poi reciteremo anche il Sutra del Cuore, la Prajina Paramita, che è il Sutra proprio fondamentale che parla di Shunyaka, l'insegnamento che ha dato Butta sulla spiegazione di quello che è la realtà dei fenomeni. Quindi faremo una meditazione attiva perché sentiremo il suono e nello stesso tempo penseremo all'intangibilità e all'esistenza di questo suono. Prendiamo una posizione comoda, partiamo sempre dal movimento del respiro. rilassiamo, lasciando cadere tutti i pensieri, tutte le emozioni. portiamo l'attenzione al respiro e poi al suono. prendiamo rifugio nei tre pezzi di gioielli in Putta d'Arma Sangha. Namo Gurubya, Namo Buddhaya, Namo Darmaya, Namo Sangha. Namo Gurubya, Namo Buddhaya, Namo Darmaya, Namo Sangha. Namo Treratnaya, Namo Treratnaya. Namo Treratnaya. Tutto un po' snotizz Kadabyeo. … … … … … … … … … Osserviamo il suono che si sente ma nello stesso tempo intangibile. Ogni parte di questo suono esiste ma nello stesso tempo non possiamo afferrarlo. Ci sono delle cause che creano questo suono, uno strumento musicale, un esecutore e le circostanze perché possa essere eseguito questo suono. Questi fenomeni vengono chiamati interdipendenti. Questo suono esiste perché è interdipendente da cause e condizioni. Ma nello stesso tempo non esiste perché non riusciamo ad afferrarlo. Osserviamo il suono. Osserviamo il suono. Recitiamo il mantra della Prajina Paramita, il cuore della saggezza. Osserviamo il suono. Osserviamo il suono. Grazie a tutti. 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 Vi invito a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.